Allora ragazzi buongiorno buonasera qualunque sia il momento che lo state vedendo qui siamo ad Almaty in Kazakistan come è evidente anche dalla bandiera si vede che siamo in Kazakistan e andiamo a vedere un po' la città con i nostri amici che mi hanno accompagnato buona visione qui la statua di Amangheili Ivanov Imanov non hanno per il centro di Almaty ma quello che so è veramente piccolo e qui siamo vicino alla chiesa Ortolos e c'è il generale maggiore Panfilon Ivan del Exus la storia è bella la storia è bella da vedere andiamo avanti c'è il parco adesso andiamo la chiesa e qui siamo alla chiesa russa ma tutto un po' la stanno ristrutturando ma vediamo il resto del parco che c'è tanta storia dell'unione sovietica sovieti union o sovietsk sajus in russo qui siamo sempre al parco della vittoria qui abbiamo la nostra amica hey 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 no no Questo è uno dei panorami che vediamo da qua. Qui sopra c'è la strada, ma poco ci interessa, quindi qui abbiamo le montagne, quindi vanno verso Kirgizistan, va bene, ciao ragazzi. Eccoci, siamo arrivati sopra a Koktebe, adesso c'è un bel panorama qui che adesso vi mostro, dai, ok. Ora siamo a Koktebe, dove c'è la vista dall'alto di Almaty. Ok, questa è la mela, la mela di Almaty, perché Almaty praticamente nel suo nome originario, in Kazago, Almaty, significa mela, quindi è la città della mela, quindi vogliamo tutti la prima mela. Questo è Kazago e pare che guidano come si stanno facendo fuori. Non c'è un po' di cadere. Direzione Respubbliche Plaschette Piazza della Repubblica Premo Becbattir Questa è l'Università Kazaga di Al-Farabi Questa è l'Università Kazaga di Al-Farabi Questa è l'Università Kazaga di robe Questa è l'Università Ragazzi alc那我們 Sardegca Questa è un po' di cadere a Ragazzi sinistra Questa è un'unica Questa è un'unica Questa è il nostro Scoperto Questa è un'unica eccoci quasi arrivati a piazza della repubblica ploscia delle repubbliche e qui prima di arrivare alla piazza della repubblica c'è un bel parco tutto verde qui come vedete questo è Jel Toksan al momento al kazakhistan adesso c'è subito la piazza della repubblica qui siamo a piazza della repubblica stanno facendo dei lavori purtroppo ma... eh vabbè stanno facendo dei lavori purtroppo ma... ... ... ... ... ... ... Questo è Abai, uno storico del Kazakistan dal 1845 al 1904, diciamo che non ha vissuto, ha vissuto ma non lunghissimo. Qui si sa della Coptebega che è la salita sul montagna dove c'è la spettacolare vista dall'alto. Intanto per la strada proseguiamo. Sempre per la strada abbiamo Shamil. Stiamo andando al Gran Mercato, qua dal Matì. Cosa è? 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 Cosa corno? Cosa è? Cosa è? questo è il mio figlio Italia e io cazacca questo è uno dei nostri amici c'è qualcosa qui cazacca 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 grazie qualcuno dice che cazacca cazacca grazie 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 non mi fai non mi fai scusate no ci fai nel 40 minuti si chiamo a prendere a prendere a prendere a prendere a prendere Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.